Senta dottor Di Matteo, ho due o tre domande ancora da fargli che riguardano un'altra questione. Lei ha avuto uno scontro durissimo, una grande polemica con l'allora ministro di giustizia Bonafede, in realtà è stata una polemica che è cresciuta sulla nostra rete da Massimo Giletti, in poi sulla questione della proposta, Bonafede pensava di dare a lei la direzione del DAP, delle carceri, poi l'ha detta a Basentini, non rispercorriamo la storia. Vorrei solo fare una domanda secca, lei è sempre convinto che il cambio d'idea, il cambio da un giorno all'altro per cui Bonafede decise di affidare a Basentini e non più a lei la direzione delle carceri fu determinata da pressioni di qualche genere, da parte di pressioni forti dei boss mafiosi nelle carceri che temevano che lei dirigesse le carceri? No, io sono fermamente convinto, e le spiego perché, che quell'improvviso voltafaccia sia stato determinato da pressioni. Non ho mai detto esplicitamente che fossero pressioni mafiose, ma ne sono convinto che ci sono state pressioni, perché quando mi congedò, dopo che avevo rifiutato un incarico diverso, quello di direttore degli affari penali, l'allora ministro Bonafede mi disse, guardi che questa volta, quindi a differenza che per l'incarico del DAP, non ci saranno dinieghi o mancati gradimenti che potranno tenere. Quindi fu Bonafede a dirmi che era intervenuto un diniego o un mancato gradimento. Il riferimento alla vicenda dei boss per me è una, tra virgolette, aggravante, perché mi sarebbe piaciuto da uomo delle istituzioni, non per me Nino Di Matteo, che un ministro che dice a un magistrato, guarda, sono intervenuti dei dinieghi o dei mancati gradimenti per la tua nomina direttore del DAP, lo spiegasse soprattutto in ragione del fatto che sapeva anche che quell'assunzione di incarico mi avrebbe esposto a ulteriori rischi e non era gradita dai boss mafiosi al 41 bis. Io non ho mai detto che ho raccontato i fatti per come si sono svolti e nei fatti è stato il ministro a dire che c'erano stati dinieghi e mancati gradimenti. Io queste cose le ho ripetute in sede istituzionale davanti alla Commissione Parlamento. Chi siano questi dinieghi non lo sappiamo. Non lo sappiamo e mi dispiace dirlo, ma nemmeno la Commissione Parlamentare Antimafia mi risulti averglielo chiesto. Senta...